Le ultime novità dal punto di vista medico per quanto riguarda il diabete è la retinite diabetica. Prima grande speranza, i farmaci che ci sono sia per il tipo 2, quindi il diabete dell'adulto, che per il tipo 1 e in particolar modo mi riferisco alle esperienze nostre siciliane con i microinfusori, possiamo oggi tranquillamente dire che è possibile aggredire il diabete, bloccare, se non prevenire le complicanze del diabete. Andando nell'ordine, per il tipo 2, sapete, su 100 diabetici 90 hanno questa forma di diabete, che è il diabete dell'obesità. L'arrivo ormai in commercio di queste molecole, che sono gli analoghi di un ormone intestinale che si chiama GLP1, sono molecole che fanno dimagrire, la causa del diabete 2 è l'obesità. Fanno dimagrire di pancia, quindi tolgono grasso anche al fegato, ai visceri, agiscono migliorando le glicemie, agiscono addirittura migliorando la vita delle cellule beta. Come dire, io invecchio ma il mio panchia si ringiovanisce con queste molecole. In linea generale questo accade per il tipo 2, per i bambini con diabete. Abbiamo già in Italia le patch pump, queste pompe addirittura usa e getta, abbiamo già in Italia sistemi di misurazione della glicemia senza più pungere dito, ormai la storia della puntura del dito è scomparsa. Sempre più ci si avvia micropompe che avranno anche la scheda telefonica all'interno, con la scheda telefonica l'apparecchio in comunicazione con la madre, manda le glicemie alla mamma. Per quanto riguarda il problema della retinopatia e della cecità, purtroppo noi vogliamo abbattere questo traguardo, che è la prima causa di cecità al mondo del diabete. Ci stiamo riuscendo, sia con i farmaci, però soprattutto ci riusciremo con quello che si chiama il modello organizzativo della gestione integrata del diabete. Il diabetico deve essere preso in carico dagli specialisti in vari livelli affinché ci sia un follow up costante di un problema cronico per cui al primo segno interviene. Grazie a Dio ci sono anche oggi farmaci che intervengono, non al primo segno ma già in fase di retinopatia avanzata, sono gli anti-PAGF, farmaci che i pazienti conoscono come la puntura dentro l'occhio. Questi farmaci riescono a fare veramente miracoli oggi. Quindi quello che vi dico è che certamente in un'epoca di crisi, quale la sanità sta vivendo, nel diabete noi siamo nell'epoca invece, forse più florida della storia del diabete negli ultimi anni. Io ho fatto diabetologia da 34 anni, mi devo dire un'epoca così bella per curare, per non solo curare le glicemie ma curare la vita di questo bambino, di questo adulto con diabete, dando una buona qualità di vita, forse non l'abbiamo mai vissuto.